Musica Il Dormancore iniziò casualmente perché la sua destinazione, secondo le origini familiari, era o andare a vendere la frutta in un banco o, come suo fratello, andare a fare il lift in un albergo. Ebbe la fortuna di entrare a lavorare nella camera oscura al laboratorio Boschi e da lì piano piano cominciò a capire il fascino di questo supporto che attraverso la luce riproduceva e riconsegnava le immagini che erano passate attraverso un obiettivo e questa in sé era una magia. Alvaro è del 23 e c'è un'intervista dell'amico Marco Giusti che trova alcune note su Fermo con le mani di Gero Zambuto, un film girato addirittura nel 37, quindi mi domando di Alvaro Dormancori già nel 37 era con le mani perlomeno sulla macchina da presa, perlomeno a caricare i magazzini. Poi la sua è stata un'escalation abbastanza produttiva perché dalla camera oscura pregò Albertelli, il celebre direttore della fotografia e fece talmente tanta pressione che alla fine, con l'aiuto di Tonino Delicolli, venne fatto andare un giorno a fare l'aiuto a Tirrenia. Alvaro era un tipo abbastanza affabile, un buon comunicatore e quindi entra subito nelle simpatie di Albertelli e lì piano piano, piano piano, un pezzetto per volta diventò prima assistente di Tonino Delicolli. Poi piano piano passò la macchina e cominciò ad avvicinarsi ai vari registi. Ora tutti non me li ricordo però, ah ecco Marino Girollami, lui fece tanti lavori e soprattutto stabilì l'amicizia con il suo, con Enzo Castellari, con il quale poi proseguì un rapporto che è andato avanti fino a quando non è andato via. Il genere particolare nel quale fu principalmente ingaggiato Alvaro fu quello della commedia. Lui entrò in simpatia con Alberto, con Alberto Nesordi, con Marcello Mastroianni ed ebbe poi la fortuna di conoscere Totò. Nel corso della sua carriera se non erro su IMDB sono riportate ben 25 pellicole sulle quali Alvaro ha messo le mani con Totò. Ma la peculiarità specifica per la quale lui fu fu preso come esempio dal principe de Curtis fu il fatto che Totò soffriva di un grave problema agli occhi. erano gli anni nei quali si lavorava con la Ferrania, con la Ferrania e con quelle pellicole con una durezza e con una sensibilità molto bassa. Si parla di 23 Asa, 46, 64 ma nemmeno ci si arrivava. Generalmente erano 23 Asa. Ciò significava che all'interno di un ambiente anche piccolo potevano esserci anche due bruti. Consideriamo che i bruti che andavano in corrente continua sviluppavano quello che più o meno oggi sono circa 23-24 mila watt. Averli in un interno significava avere una fonte di luce enorme anche per tutta la truppa che magari poteva anche riportare gli occhiali da sole. Ecco, Totò aveva questo tipo di problema. e Alvaro sviluppò una metodica con il principe che attraverso il posizionamento di alcuni oggetti sul set stabiliva dei punti luce attraverso i quali Totò si muoveva. E questo fu innovativo. Totò amò molto questa escamotage che poi insomma, meno male, andava anche ad aiutare quella mimica teatrale intorno alla quale Totò è stato reso celebre. È stato produttore, è stato proprietario di cinema a Roma quindi è stato anche distributore con la ECI. Ha avuto più figure all'interno partendo sempre dalla camera oscura dei laboratori boschi. Ebbene lui iniziò a produrre, a coprodurre all'inizio con i peplum ma anche se vogliamo aggiungere, per il pugno di dollari, lui dette gratuitamente i teatri a Sergio Leone e a Clint Eastwood che in quel momento erano ancora degli illustri sconosciuti. Poi partecipò alla produzione del film Ostia, scritto da Pierpaolo Pasolini e ad altre produzioni quindi anche quella degli uomini dal passo pesante. Un uomo poliedrico comunque che è passato dalla camera oscura fino anche alla distribuzione delle pellicole in 35. Degli uomini dal passo pesante posso aggiungere che dal momento che Alvaro era produttore, era stato fondatore dei teatri Helios insieme a De Filippo e insieme a Marie Chrétienne. Lui era oberato di cose da fare e gli uomini dal passo pesante, seppur sia stato sottoscritto e presente al ministero al nome di Alvaro Mancori, in realtà fu il fratello Memmo e fu in parte papà a girarlo, anche se risulta Alvaro Mancori. Questo aspetto lo ricordo bene perché se ne parlò in famiglia e non furono soltanto questi i film che cinematografo Sandro o Memmo al posto di Alvaro, perché Alvaro, ripeto, facendo anche produzione era oberato di impegni. Io credo che l'alternativa ai Mancori in generale nella cinematografia western sia stato solo il grande Tonino degli Colli perché i principali film western o Tonino o i Mancori, Sandro soprattutto con Frank Kramer e tutta la serie di Sabata, Sartana, i film anche di Mauri o piuttosto Indio Black e infatti tutti Sandro. Tonino ovviamente ha seguito Sergio Leone, eccetto per il primo della triade del dollaro che fu Massimo Dallamano se non ricordo male, per il resto li filmò tutti tutti il grande Tonino. Sandro e il western per me è storia. Ho recentemente avuto il piacere di rivedermi se incontri Sartana prega per la tua morte dove ci sono le notti illuminate alla Helios che sono uno spettacolo e si sta parlando tra il 68 e il 69 quindi si faceva già una cinematografia di alta qualità. Oggi come oggi quel villaggio western che è stato considerato anche il più grande d'Europa dove venivano a girare gli americani dove girò Clint Eastwood e il pugno di dollari, la parte italiana. Dove Leone e tanti altri hanno lasciato delle opere importanti dove ci sono stati sette di Yul Brynner piuttosto di Klaus Kiski piuttosto di Lee Van Cleef. Ebbene quello che poteva essere un teatro a disponibilità di tutti, un pezzo di storia d'Italia è stato schiacciato con gli schiacciasassici. Adesso ci sorge un enorme parcheggio a disponibilità della Titanus nei teatri che sono sempre lì a sette camini. Tra il 60 e il 61 attraverso l'amicizia con Peppino De Filippo e un aspetto finanziario molto importante di Anne Marie Chrétienne furono fondati questi teatri che erano nella parte western lunghi 300-350 metri e c'era la casa dello sceriffo e c'era il saloon e c'era la banca e il saloon era arredato perché all'interno c'erano le sedie, i tavoli da gioco, il bancone, le bottiglie, le lampade ad olio, il pianoforte e la roulette. Va salendo sulla scala si trovavano le camere dell'albergo. c'è quell'inquadratura del pugno di dollari nel quale Clint Eastwood per non farsi sorprendere dall'uomo della signora della quale sta occupando la camera toglie la pistola all'uomo che entra e c'è una panoramica all'interno di questa stanza dove si vedono le tendine, le lenzuola, il cuscino, l'armario, erano fissi, non venivano montati lì per lì. Gli arredi della Helios erano fissi. La banca aveva la cassaforte, aveva le grate, aveva la cassa con gli sportelli, aveva il vetro con su scritto bank, la casa dello sceriffo aveva la prigione all'interno. I teatri Helios erano completamente arredati, interno e esterno, quindi si poteva passare da dentro a fuori. E nello stesso periodo nel quale magari si stava girando a Cheoma, a Castellari fuori si stava girando un film di Sergio Leone, perché erano talmente ricchi e completi che ciò lo permetteva. Un gran bel ricordo. È una sofferenza perché oggi non c'è più niente, purtroppo. Mentre andando in Almeria si pagano giustamente 20 o 25 dollari, adesso non ricordo, sono stato qualche tempo fa, forse 20 euro per fare ingresso a quello che è un museo che anche noi qui a Roma potevamo avere. Il mio rapporto con il Western è particolare perché per me la Helios era un parco giochi, era un bambino fondamentalmente, quindi quando arrivavo potevo soltanto dar fastidio alle produzioni che erano già impegnate, andando a strepitare a destra e a manca, perché chiaramente essendo il teatro di zio io ero un po' il padrone di casa. Con il Western ho avuto la curiosa vicenda di essere stato il bambino rapito su 7 dollari sul rosso e poi sono stato anche uno dei fuggitivi, dei bambini che fuggivano su come comparsa però in quel caso su Indio Black con Yul Brynner. Il mio film preferito di Sandro è sicuramente Egli Amico, Egli Amico c'è Sabata. A parte perché trovandomi spesso a parlare dei teatri della Helios ci sono delle panoramiche con William Berger a cavallo che attraversa interamente il villaggio in queste panoramiche girate alla macchina da Mario Sbrenna, mio zio, e illuminate da Sandro Mancori che rendono veramente il visus di quello che è la grandezza di questo villaggio perché in queste due panoramiche sinistra-destra e destra-sinistra, sempre con William Berger a cavallo si può notare la grandezza di questo villaggio. In fondo c'è questa chiesa che all'interno, oltre al campanillo, ma all'interno aveva anche i banconi. Quindi, ripeto un po' quello che dicevo poc'anzi, gli interi studio Selius erano completamente arredati e non venivano allestiti al momento con la tendina, la copertina e il lenzuolino. erano pronti 24 ore su 24. Cioè, per assurdo, potevi passarci di notte, entrare nel Salunna e salire in una camera e dormirci dentro, perché c'era tutto. e i miei ricordi da bambino sono quelli di questo rompiscatole che andava da un set all'altro e che si prendeva gli scapaccioni. What do you expect me to do, run? I was hoping you would. Take best with you, though. You're serious, aren't you? Getting his sister Hicks does no laughing matter. Better hurry up, Bess, before he changes his mind. Franco è un personaggio istrionico. Io di lui, al di là del rapporto, posso dire di essere rimasto sorpreso un giorno. Mi trovavo a Tokyo e entrai in una videoteca. Era il periodo che c'erano i DVD, parlo di una quindicina di anni fa circa. E c'era un reparto interamente dedicato a Franco Nero. Mi è capitato di vedere cose simili a Cartagena, come a Margarita, in Venezuela, in Sud America. Ma di questo lo sapevo perché Franco all'estero è una star molto più che in Italia. Non lo sapevo in Giappone e in Giappone mi venne veramente colpito dalla presenza di poster, immagini e tutta la sua produzione in DVD è esposta sugli scaffali. Franco è un personaggio amabilissimo, un'enciclopedia di storia. Uno di quei grandi gioielli che in Italia non vengono valorizzati come dovrebbe. anche perché oggi come oggi credo sia il nome più importante a livello internazionale che noi ancora abbiamo. A livello attoriale intendo. Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.